Un saluto a voi tutti e bentornati all'appuntamento con il meteo. Dopo la prima vera ondata di caldo africano che ha interessato in lungo e largo la nostra penisola nel corso dei giorni scorsi, ora ci aspettiamo un significativo peggioramento delle condizioni del tempo. Se diamo uno sguardo infatti al fermo immagine satellitare, possiamo notare come la saccatura nordatlantica viaggi verso il cuore del Mediterraneo e che determinerà nel corso dei prossimi giorni condizioni di estrema instabilità, specialmente lungo il versante adriatico, oltre ad un deciso calo termico per via delle correnti settentrionali. Entriamo ora nel dettaglio previsionale ed andiamo a scoprire cosa ci aspetta per i prossimi due giorni. La giornata di martedì 25 giugno vedrà quindi un peggioramento del tempo, con condizioni di instabilità sulle regioni nord-orientali e su quelle del medio versante adriatico, dove non mancheranno pioggia a carattere di rovescio temporale. Locali acquazzoni non mancheranno nemmeno nelle zone interne del centro-sud, con possibili sconfinamenti verso le zone pianeggianti, generalmente sereno o poco nuvoloso sulle rimanenti regioni. Nel corso della giornata di mercoledì 26 ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche. Si accentua di fatti l'instabilità, specie nelle ore pomeridiane, con rovesce temporali più frequenti su medio-alto versante adriatico, quindi fra Romagna, Marche ed Abruzzo, ed anche lungo la dorsale appenninica, dove non mancheranno locali sconfinamenti verso le zone pianeggianti. Le temperature, come già accennato in precedenza, tenderanno a diminuire, sino a portarsi al di sotto delle medie del periodo, mentre i venti soffieranno moderati o forti dai quadranti settentrionali. Bene, per il momento io mi fermo qui. Arrivederci al prossimo appuntamento.